La terza di campionato porta bene anche al New Peter Pub che ritrova la vittoria dopo il clamoroso stop di settimana scorsa contro i Bad Boys Tre partite, sei punti, ruolino delle squadre, quelle che contano anche nella Serie B Una squadra che gioca bene, ha convinto anche Willy a tornare in campo e oggi ha messo subito il segno da bomber di razza qual è Però noi chiediamo a Marinaccio Romeo di raccontarci in realtà com'è andata la partita Bella partita, è stata una bella partita veramente, abbiamo combattuto, abbiamo giocato bene contro una bella squadra, devo dire la verità E abbiamo secondo me meritato la vittoria, bella veramente come partita Grintosi e grazie anche a Willy perché è un giocatore che comunque fa la differenza All'inizio del campionato si era parlato di un daytime praticamente favorito insieme a Lions Art per arrivare alla vittoria finale quasi facile Il New Peter Pub non ci sta ad essere vittima sacrificale, mette il canonico cuore nella partita e porta a casa tre punti veramente importanti Veramente, veramente, chi ha visto la partita secondo me si è divertito e anche gli avversari non hanno avuto niente da dire, devo dire la verità Complimenti a tutti e saluto a tutti Ok, come al solito si ricorda che qui nelle partite anche della Serie B del derby il risultato non è mai quello che dicono sempre i bookmakers Bisogna sempre stare attenti alle squadre che ci mettono il cuore È vero A settimana prossima Ciao a tutti